Ciao, ciao benvenuti siamo su Spezia TV Ciao Spezia TV, come stai? Ti siamo trovati qui per caso, io non so perché tu sei... Non è per caso, è perché sto aspettando Federico, Fedez Oh Federico, è lì Fedez, Fedez faccio un'intervista e vengo eh Lo deve fare tutte te Sei un fan Quella bionda no, quella bionda no Sei un fan, sei un fan No, non sono fan, sono suo amico, dei fans io proprio Quindi non rappi, non rappi No, mi intrippo proprio, io proprio non rappo, mi intrippo È un nuovo genere musicale che fa così Viaggiavo velocissimo, correndo come un fatto Non me lo ricordo più Non se lo ricorda più, però Mi sono dimenticato Però insomma siamo qui per Fedez Ah, sei qui per Fedez? C'è Fedez? Ah, c'è Fedez? Non lo sapevo io No, sto scherzando Non lo sapevo Non lo sapevo che poi ci offende Fedez No, no, vorrei mai che ci cercasse Eh? Arriva di là Fedez Sì Scusi signorina, può venire un attimo? No, un secondo Un secondo, una domanda Una domanda Ecco, abbiamo una signorina qui Conosci una canzone di Fedez Che noi siamo sproveduti? Io non so solo 21 grammi Ma quelli ci arrestano Quelli ci arrestano Sto scherzando Ah, ma sono le tue fans Eh sì E chi scusa? Solo Sandro Siamo i due Sandri Allora, solo Sandri Io mi pu... Ascolta Una canzone di Fedez Una canzone di nuvole di fango Nuvole di fango Vedi, non l'abbiamo trovata Non ci posso credere Il mio dicevi preferito Non ci posso credere Siamo... Ho capito Ma siamo... Ma infatti sei cresciuto benissimo Ora ti fermo allo sviluppo Fedez Secondo me Secondo me Mi piani così però, dai Allora, ragazzi Abbiamo scherzato Stiamo spiegando tutti i fans Siamo carichi per questo evento E quindi niente Dovemo lasciarvi Perché dall'incitamento Dovendo la falapia Mi scappa troppo Ciao ragazzi Ciao Un bacio Spazia TV Salutiamo Spazia TV Ciao